Oggi presento la fiera Oggi presento la fiera del tartufo, un piatto che si abbina al tartufo bianco, chiaramente, ed è un raviolo ripieno di coniglio, il coniglio griglio di Carmagnola, con del burro di montagna saltato in padella al profumo di salvia e una schiuma, una nuvola sopra sempre dello stesso burro. Il piatto delicato, una carne bianca molto delicata dove non va a sovrastare il tartufo e si abbina chiaramente con un grande vino che è il barbaresco delle laghe. Grazie.